Sapete qual è il primo passo per conquistare una medaglia d'oro? Iniziare a remare. Ma solo con il giusto supporto, un dilettante di oggi può diventare un campione di domani. Per realizzare i sogni delle associazioni sportive dilettantistiche, di canottaggio, calcio, ciclismo, motoclub e sport del ghiaccio, Suzuki dona 40.000 euro. Giuseppe dai, ora vediamo come te la cavi con i colpi di tacco. Riferisci che i colpi di reni, non ci provo. Io vado ad allenarmi, voi andate su suzuki-sport.it Suzuki